Buonasera e questa sera torniamo a parlare, lo avete visto anche dalla copertina di una vicenda affascinante e intricata della quale abbiamo già parlato in passato con il giornalista Rino Di Stefano che ritrovo con piacere, ciao Rino. Ciao Fabio, buonasera a tutti. È uscito questo libro, ne avete intravisto la copertina, il caso Majorana Pelizza, una vicenda che Rino tu segui da tantissimi anni che in questo libro cerchi di rievocare anche alla luce di alcune novità o comunque di alcuni punti fermi. Partiamo da questo, da che cosa sei partito e che cosa di questa vicenda ancora può farci appassionare, che cosa possiamo ancora tirar fuori. Ma dunque, allora, io ci tengo a precisare che la mia inchiesta su questa storia è cominciata nel gennaio del 2009 e si è conclusa nel gennaio di quest'anno del 2022 purtroppo con la scomparsa del protagonista principale, quindi di Rolando Pelizza. Ora, di che cosa si tratta? Io in un primo tempo non volevo scrivere un libro perché avevo scritto diversi articoli su questo argomento proprio a partire, perché ho cominciato appunto a interessarmi nel 2009 ma la mia inchiesta sul giornale, sul giornale allora diretto da Vittorio Feltri e del quale io ho fatto parte per quasi 30 anni della mia attività professionale e ha cominciato a occuparsi il giornale di questa questione proprio per i tantissimi punti oscuri che aveva. Quindi tutto è iniziato da lì. Partiamo dai primi articoli del 2010 e quando io ho iniziato nessuno, ma proprio nessuno, parlava di Rolando Pelizza e del suo caso. Io avevo trovato negli archivi qualcosa che lo riguardava e soprattutto articoli degli anni Ottanta di Repubblica che lo dipingevano praticamente come uno pseudo-truffatore. Ma ora, quando ci si trova di fronte ad una truffa i soggetti coinvolti dovrebbero essere almeno due, il truffatore e il truffardo. Ora, qui si parlava soltanto di Rolando Pelizza in quegli anni e non si parlava di nessuno che avesse mai subito una truffa a questo riguardo. La cosa mi ha insospettito perché mi sembrava evidente che nessun giornalista si fosse mai occupato seriamente di questa questione, come se appunto fosse tabù o fosse meglio comunque non tirarla in ballo. Ebbene, io ho cominciato a interessarmene e soprattutto ho cercato di conoscere sia il protagonista principale, cioè appunto Rolando Pelizza, sia tutta una serie di altre persone che in un modo o nell'altro si erano e si sono occupate di questa storia. Ora, di che cosa stiamo parlando? Per coloro che hanno una vaga infarinatura del caso Majorana Pelizza sembrerebbe quasi che fosse più comodo dire che ci troviamo di fronte a una favola che non ad un fatto di cronaca e invece così non è perché qui le favole riguardano l'interpretazione pseudoscientifica che si vuole dare di questa storia e allora sì, lì si entra nella fantascienza e cose di questo genere. Invece, se si esaminano gli eventi dal punto di vista della cronaca quindi di quello che è realmente accaduto allora le cose assumono completamente un'altra dimensione. La prima cosa che io ho capito è che ovviamente, come sempre succede quando, diciamo così, un fatto va alla ribalta e se ne parla molto come è successo negli anni, a metà degli anni settanta esattamente dal 76 all'80 più o meno quando Rolando Pelizza ha avuto a che fare aveva un contratto con il governo italiano allora c'era il terzo governo Andreotti e il motivo per cui il governo si era occupato di Rolando Pelizza è che lui diceva di essere in possesso di una strana macchina la quale era in grado o sarebbe stata in grado perché qui bisogna essere attenti a quello che si dice perché si fa presto a dare una connotazione diversa alle cose quindi questa macchina sarebbe stata in grado di trasformare la materia in energia pura e questo senza l'emissione di raggi gamma come noi li conosciamo cioè qual è l'energia per quello che noi sappiamo per la fisica che noi conosciamo trasforma la materia in energia pura è l'energia nucleare c'è una scissione nucleare quindi la materia si trasforma in energia ad altissimo potenziale non è solo altissimo potenziale ma anche un potenziale devastante perché nel momento stesso in cui avviene l'esplosione nucleare ovviamente l'ambiente circostante ne risente pesantemente tra l'altro anche a distanza di anni in quanto ogni esplosione nucleare genera i raggi gamma che sono assolutamente letali per cui solo quando l'uomo è riuscito a contenere e quindi a creare per esempio le centrali nucleare si è riusciti a convogliare questa energia in un certo modo e quindi a trasformarla da devastante a energia pacifica per gli usi normali quindi sia industriali che domestici ma per quello che ne sappiamo noi è l'unico tipo di energia in grado di fare una cosa del genere invece in quel periodo salta fuori nel 76 salta fuori un tizio appunto Rolando Pelizza da Brescia che dice no un momento io ho una macchina che è in grado di trasformare la materia in energia pura e a farlo in modo del tutto dolce diciamo così non violento cioè generare trasformare l'energia scusate la materia in energia in modo contenuto misurato controllato ora non ci vuole niente per capire che una cosa di questo genere se fosse realmente esistita o perlomeno se fosse in dotazione a qualche governo potrebbe come dire generare un benessere incredibile perché in pratica annullerebbe il discorso dell'energia da elementi fossili quindi niente più petrolio niente più energia nucleare con tutto ciò che l'energia nucleare provoca ma sarebbe un'energia detta in questi termini a costo zero e con un surplus di valori incredibili ora bisogna dire che noi abbiamo una come dire una documentazione storica di quegli anni ed è una documentazione ufficiale perché perché il governo italiano incaricò il presidente del CNEN nonché docente di fisica dell'università di Bologna Ezio Clementel di controllare di studiare questa macchina e di vedere se in effetti produceva ciò che prometteva di produrre e a questo riguardo in effetti noi abbiamo sia dei video che mostrano la macchina in azione sia delle valutazioni scritte del professor Clementel il quale sosteneva che in effetti questa macchina produceva un'energia incredibilmente elevata rispetto a quello che si poteva immaginare all'epoca questa è solo la premessa è solo la premessa perché poi in effetti la storia è andata avanti dal 76 siamo arrivati fino appunto al 2022 con tutta una serie di vicissitudini tutta una serie di personaggi di società di diplomazie che si sono occupate di questa storia e fornendone però un quadro assolutamente vago non abbiamo delle notizie precise questa macchina non è mai stata studiata almeno ufficialmente almeno per quello che se ne sa non è mai stata sottoposta all'attenzione che ne so di un team di accademici che l'hanno esaminata e hanno visto qual è la fisica che muove questa questa macchina perché noi non conosciamo assolutamente niente della fisica che questa macchina o meglio della fisica con cui questa macchina agirebbe ora secondo le rivelazioni fatte da Rolando Pelizza l'inventore di questa macchina e colui che ha permesso tutto questo sarebbe stato lo scienziato Ettore Majorana scomparso ufficialmente nel 1938 il 27 marzo del 1938 e del quale non si è più saputo nulla Pelizza sostiene che lui avrebbe incontrato Ettore Majorana in un convento dove Pelizza stesso si sarebbe recato per vendere una partita di scarpe perché lui la sua azienda di casa si occupava di quel settore e lui era andato in questo convento per vendere delle scarpe lì avrebbe conosciuto questo signore sconosciuto tra l'altro cioè lui non aveva più pallida idea di chi fosse e soltanto in un secondo tempo lo sconosciuto si sarebbe rivelato come Ettore Majorana ora questo è l'antefatto antefatto che tra l'altro è stato anche descritto in modo esauriente in una biografia che è uscita negli anni scorsi subito dopo la mia inchiesta del cui autore Alfredo Ravelli che è il biografo di Rolando Pelizza io sono subentrato nel 2009 appunto quindi in tempi recenti perché di di questo signore di Rolando Pelizza si cominciava come dire a parlare per diverse cose che lui cominciava a dire lui per tanti anni era rimasto silente e si era tenuto tutte le persecuzioni anche giudiziarie che aveva subito perché nei suoi riguardi erano stati emessi anche tre mandate di cattura internazionali poi tutti quanti revocati però diciamo così che aveva sempre fatto molto discutere ma non aveva mai anticipato nulla invece dal 2010 ad arrivare appunto fino al 2022 sono accadute tantissime cose per esempio per esempio una delle cose che lui raccontava ma di cui ci tengo a precisare non esiste nessuna traccia nessuna traccia ma lui le raccontava lui diceva guardate che questo è accaduto lui sosteneva di avere avuto un rapporto prima epistolare poi amministrativo diciamo con il governo americano in effetti si sa per documentazione scritta che è anche in mio possesso che lui ha avuto accordi prima con il governo americano di Gerald Ford negli anni 70 e successivamente con quello belga di Leo Tindemans e quindi lui ha avuto rapporti ufficiali e è anche ingenuo pensare che il governo degli Stati Uniti si metta a collaborare con qualcuno se non è sicuro che questo qualcuno abbia qualcosa di concreto in mano perché insomma non stiamo parlando di di marionette e qui si parla in senso molto ma molto concreto e quindi almeno avevano idea che dietro il racconto di questa macchina la macchina stessa ci fosse e il motivo qual è? è che avevano chiesto delle prove prove concrete cioè per esempio cose scritte e riscritte comunque quando Pelizza faceva delle prove sul monte Baremone dalle parti di di Brescia e in queste prove lui disintegrava gli oggetti che gli venivano forniti compreso delle lastre di metallo molto grandi eccetera in modo da far vedere che la sua macchina funzionava ma ripeto tutto questo appartiene al passato c'è invece tutta una parte presente che della quale io mi sono fatto osservatore testimone in qualche modo nel senso di seguire quello che faceva a Pelizza di parlare con lui perché il mio rapporto amichevole con lui cioè è diventato amichevole perché all'inizio non lo era poi tanto nel senso che non gli andava mica di rivelare tutto al primo giornalista che capitava ero l'unico giornalista veramente perché non è che ce ne fossero altri in quel periodo ma lui non dava mai notizie precise dettagliate eccetera ogni tanto dava qualche briciola di verità però poi per il resto si asteneva ora che cosa di che cosa parlava vi dicevo prima una notizia eclatante di cui però non si è mai saputo niente e non ci sono prove concrete cioè lui sosteneva di avere una in piedi una collaborazione con il governo americano con il governo americano di George W. Bush per eliminare l'ozono dall'atmosfera cioè si parlava del buco dell'ozono eccetera e lui diceva che con la sua macchina era in grado di distruggere o perlomeno di rimettere a posto le cose ripeto queste sono sue dichiarazioni non abbiamo prove di nessun genere che questo potesse veramente accadere però faceva parte del suo racconto ma non solo lui avrebbe firmato questo è quello che diceva lui un contratto con il presidente americano nell'ambito del Vaticano ora il giorno nel 2007 se ricordo bene il giorno in cui lui sosteneva di aver incontrato George W. Bush in effetti il presidente Bush era a Roma era venuto a Roma e si era recato in Vaticano per colloqui con Papa Benedetto XVI ma questo è diciamo così è sufficiente per poter dire che il presidente Bush abbia incontrato lui abbia firmato un contratto con lui chiaramente no chiaramente no non ci sono né testimonianze né prove scritte c'è soltanto il suo racconto addirittura c'è un resoconto dell'incontro che lui avrebbe fatto con Bush e dove ha messo persino i nomi dei cardinali presenti io nel mio libro parlo di tutte queste cose di tantissime altre e però come dire prendendo le mie precauzioni perché io non posso avvallare semplicemente secondo le sue dichiarazioni questo questo genere di racconto io ho messo i nomi dei cardinali citati da lui però però dal momento che la documentazione è piuttosto vasta ed è una documentazione che esiste da tanto tempo ma che non è mai stata usata né dallo stesso Ravelli come biografo né da me in tempi più recenti per il semplice motivo che avrebbe messo in difficoltà lo stesso Rolando Pelizza e allora avevamo deciso di non di non parlarne ora però dal momento che il destino ha voluto che Pelizza non ci fosse più chiaramente questo disagio per lui non non esiste per cui io ho ho voluto raccontare sia questa questione di Bush ma sia tante altre tante altre di cui la gente non ha mai saputo niente ma sono talmente tante le cose infatti il mio libro è 496 pagine ora è ovvio che se uno va ed è una sintesi badate bene è una sintesi di quello che è realmente accaduto ci sono ci sono delle prove che possono essere considerate come dire utilizzabili in tribunale ok perché secondo me se una prova c'è se una prova è concreta e tangibile il parametro per definire questa prova deve essere sempre che è utilizzabile nel caso di un eventuale processo perché se non fosse utilizzabile in quella circostanza non so che tipo di prova potrebbe essere quindi ci sono prove di questo genere quali sono io vado a braccio ovviamente perché gli argomenti sono ma tanti magari se c'è qualcosa da fissare te lo chiedo io prosegui pure che è molto interessante davvero sì per esempio una delle cose che io ho cercato di mettere a fuoco nel racconto di Rolando Pelizza è che il la verità sull'esistenza di Ettore Majorana perché lui sosteneva che Ettore Majorana fosse in vita ora Ettore Majorana è nato il 5 agosto del 1906 quindi è chiaro che negli anni 2000 aveva superato il secolo avrebbe superato il secolo di vita e quindi è già una cosa piuttosto piuttosto aleatoria insomma però lui diceva che era così io gli ho chiesto delle prove prove che perlomeno giustificassero la dichiarazione Ettore Majorana è in vita o perlomeno o perlomeno la cosa che mi interessava di più e con questo era d'accordo anche il professore Erasmo Recami che era l'illustre biografo di Ettore Majorana il professor Majorana ha scritto un libro meraviglioso sulla biografia di Ettore Majorana e era quella di vedere di vedere e di avere poi prove concrete sull'esistenza di Ettore Majorana dopo il 1938 perché allora si poteva anche come dire sposare la tesi che lui in effetti come in un certo senso ha raccontato Sciascia nel suo famoso libro e ripeteva Rolando Pelizza allora era in vita dopo il 1938 che prove abbiamo e a quel punto ricordatevi che la mia inchiesta è iniziata nel 2009 poi con una fase operativa che è iniziata nel 2010 nel 2014 e nel 2015 sono emerse alcune prove che possono essere a tutti gli effetti definite tali e di che cosa parlo? parlo soprattutto di lettere e di fotografie allora Pelizza tiro fuori delle foto dicendo che queste foto gliele avevano date i suoi amici americani coloro che lo tenevano sotto controllo secondo il suo racconto e in queste foto c'era Majorana ripreso il giorno del suo compleanno quindi il 5 agosto di anni diversi poi vennero fuori anche delle lettere lettere tutto mi pare che siano più di 20 20-22 adesso non mi ricordo comunque le lettere principali sono 3 o 4 ma c'è una corrispondenza abbastanza vasta e allora un bel giorno Rolando Pelizza mi invitò a Verona di andare a Verona nello studio di un suo collaboratore e mentre eravamo seduti al tavolo tirò fuori un pacchetto di fotografie 10x15 erano foto di un rullino e e poi delle delle lettere scritte a mano le lessi e il discorso era questo erano lettere che Ettore Majorana avrebbe spedito a Pelizza dal convento in cui si trovava convento che non veniva specificato perché la data di queste lettere era sempre Italia e poi la data in modo che nessuno potesse dire da dove queste lettere venisse c'erano le fotografie fotografie che riprendevano un ragazzo giovanissimo che era la coppia sputata di una foto del intorno degli anni 30 di Ettore Majorana solo che quella era una foto a colori e la foto d'epoca invece era in bianco e nero e nelle foto a colori c'erano un tizio che una persona segaligna dalla faccia segaligna perché erano diciamo così a metà busto queste foto quindi si riprendeva molto bene il viso c'era un tizio sconosciuto questo ragazzo e poi Pelizza c'erano tre persone e c'era e ripeto erano una ventina di foto la somiglianza sembravano proprio uguali io infatti dissi che se quello se quelle foto fossero state autentiche come lui diceva non dovevano non dovevano essere pubblicate perché sarebbero state di un impatto devastante figuriamoci uno che si fa ringiovanire da cent'anni si trasforma in un ragazzino di vent'anni insomma non erano accettabili come come discorso anche perché uno non può mettersi a dire cose di questo genere come se niente fosse non ci sta e il problema è che poi saltarono fuori altre foto e le foto di cui ho parlato prima quelle che sarebbero state fatte in un convento appunto con l'età di Majorana che a quell'epoca avrebbe dovuto avere dunque tra i 50 e i 60 anni ma era visibilmente più giovane allora io ho detto che non avrei preso in considerazione queste foto se le foto scusate non fossero state periziate allora sono stato accontentato le lettere sono state consegnate scusate le lettere sono state consegnate alla dottoressa Chantal Sala perito del tribunale di Pavia perito calligrafico del tribunale di Pavia e il confronto le lettere originali di Ettore Majorana sono state fornite dal professor Recami dal professor Erasmo Recami il professor Recami ha anche fornito le foto d'epoca di Ettore Majorana e è stato trovato uno studio lo studio dell'ingegner Michele Vittiello di Brescia che si occupa proprio di di questo genere di perizie fotografiche lui infatti collabora con i carabinieri e molte altre cose e e abbiamo atteso il risultato dunque a mia conoscenza le perizie di cui io sono venuto a conoscenza erano tre di cui soprattutto una lettera del 1964 datata 1964 che secondo me è la più importante di quelle che avrebbe scritto il presunto Majorana tre perizie e in tutte e tre le perizie la dottoressa Sala che ripeto è al top della sua professione è una è un perito davvero molto bravo e ha detto che quelle lettere sono state senza dubbio vergate dalla mano del signor Majorana Ettore e quindi autenticava praticamente le lette la perizia fotografica fatta tra l'altro in digitale quindi con apparecchiature di primordine eccetera proprio per poi tra l'altro lì ci sarebbero da fare ma dovrebbe essere l'ingegner Vitiello a parlare per quanto riguarda il discorso della somiglianza eccetera comunque sia ha fatto una perizia di 67 pagine una cosa così e terminava dicendo che al di là di qualunque possibile dubbio la persona ritratta nelle foto fornite da Rolando Pelizza e quelle fornite dal professor Erasmo Recami corrispondevano esattamente alla stessa persona a questo punto a questo punto abbiamo delle come dire delle prove che se fossimo in un processo dovrebbero far riflettere cioè non è non è possibile che diverse lettere e le foto corrispondano alla stessa persona casualmente non esiste il caso qui veramente stiamo parlando di scienza sia nel caso della dottoressa Sara sia in quella dell'ingegner Vitiello ci sono delle caratteristiche precise che vengono studiate poi soprattutto il discorso non parliamo della somiglianza fisica che ci sono centinaia di punti che vengono esaminati quindi senza nessuna possibilità di dubbio che si tratta della stessa persona come si vuole giudicare una cosa di questo tipo è anche vero è anche vero che esiste nella diciamo nel mainstream ora io vengo da da quel da quel settore io vengo dal da un quotidiano politico no? quindi da quello che rientra diciamo così nel nel panorama dei quotidiani del mainstream è vero che molti stanno cercando in tutti i modi di ignorare questo genere di 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 prove che riguardano l'eventuale figura di Ettore Maiorani c'è anche da dire però e qui c'è una giustificazione concreta perché io come giornalista lo comprendo benissimo quello che sta succedendo come si fa ad avallare una fotografia che anche se periziata e mi dicono corrisponde davvero a quella persona da un punto di vista anagrafico quella persona dovrebbe avere un'età incredibile rispetto invece alla foto che si vede facciamo un esempio abbiamo ho pubblicato una foto dove si vede si vedono due persone una in piedi accanto all'altra uno sarebbe Ettore Maiorana e l'altro Rolando Pelizza Rolando Pelizza era una foto del 1996 e Rolando Pelizza in quell'epoca aveva 58 anni la persona che gli stava vicino si e no si e no ne dimostrava una cinquantina forse anche meno ora mi volete spiegare come si può dire che Ettore Maiorana che nel 1996 avrebbe dovuto avere la ragguardevole età di 90 anni e invece ne dimostrava una cinquantina per cui è comprensibile è assolutamente comprensibile la perplessità e anche la contrarietà di certa stampa nei riguardi di questo fenomeno io stesso non ho nessun tipo di spiegazione l'unica cosa che posso dire è che in quella famosa in quella famosa lettera del 1964 lui spiegava che la sua macchina era in grado di fare quattro fasi la prima annichilimento della materia quindi trasformazione della materia tutta materia appunto solida in energia pura seconda fase riscaldamento della materia cioè regolando la macchina in un certo modo si otteneva che la materia arrivasse a una certa temperatura terza fase trasmutazione della materia trasmutazione cioè trasmutazione cosa vuol dire vuol dire che si trasforma un tipo di materia in un altro tipo di materia e quarta fase è invece quella della come dire trasposizione di un oggetto o di una creatura vivente in un'altra dimensione e questa regolando la macchina in un certo modo questo oggetto questa creatura vivente ritornando dopo qualche secondo o al massimo un minuto un minuto un minuto e mezzo mi avevano detto io non ho mai visto niente del genere con i miei occhi non ho assistito a esperimenti di questo tipo e dicono che appunto tornando nella nostra dimensione sia l'oggetto o la creatura vivente erano notevolmente ringiovaniti capite che non ci vuole niente a dire questa è fantascienza pura perché così per come noi conosciamo la nostra fisica il nostro modo di essere una cosa di questo genere non solo sarebbe devastante per chissà quanti motivi bisognerebbe elencarli tutti ma insomma non è possibile come dire vendere una verità di questo tipo comunque questo è quello che lui diceva nella nella sua lettera una cosa curiosa è anche la terza fase quando parla di trasmutazione qui entriamo nella dimensione della pietra filosofale degli antichi degli antichi alchimisti cioè prendo un metallo vile io uso la pietra filosofale e Dio solo sa cos'altro e trasformo questo metallo vile in oro secondo il racconto di Rolando Pelizza questo racconto è anche come dire abballato da una da un video che lui fece con una videocamera al nastro magnetico e lui fa vedere in questo video che è su youtube chiunque se lo può vedere sotto la voce trasmutazione è un video che dura 103 minuti quindi ce n'è veramente e lui fa vedere che si faceva dare dei rimasugli di gomma piuma da parte di una fabbrica che stava vicino al posto dove lui viveva a Barcellona perché lui per sfuggire all'arresto in Italia era scappato a Barcellona dove si nascondeva e dove ha vissuto per 11 anni lui praticamente ha fatto 11 anni di esilio e beh in questo laboratorio che lui aveva fatto che poi era una specie di garage lui faceva vedere che questo pezzo di gomma piuma è un cubo mettiamola così è un cubo di 15 cm per lato e questo cubo facendo in modo che il raggio che usciva dalla sua macchina colpiva questo cubo questo cubo improvvisamente provocava un grande bagliore e si trasformava da elemento plastico dalla gomma piuma in oro lui sosteneva di avere fatto tutta una serie di calcoli perché l'uomo era molto ferrato in matematica o almeno in questa matematica di cui parlava questa pseudo matematica di Ettore Maiorano e lui sosteneva di avere programmato la macchina per la terza fase e quindi di essere riuscito dopo tanti tentativi perché la cosa non è che gli è andata bene alla prima botta è andato avanti per anni fino al 92 quando poi ci sarebbe riuscito ed ecco che allora lui continuava a produrre questi questi cubi d'oro che lui depositava e accumulava nel suo garage infatti ne ha fatti vedere la bellezza di 125 cioè qualcosa di più di 8 tonnellate d'oro e dicendo che si trattava appunto tutto di oro al 100% ora tra l'altro tutti sanno che l'oro essendo un elemento naturale non esiste in natura al 100% con diverse elaborazioni le banche riescono a ottenere una percentuale di purezza pari al 999,9% ma non si ottiene il 1000 cioè l'assoluta purezza del metallo invece lui diceva che tutta questa roba che produceva fosse di oro assolutamente puro faceva vedere anche prima il cubo di gomma piuma poi diventava un cubo di metallo misurava in una vecchia bilancia di quelle a bilanciere come si usavano una volta per vedere quanto pesava questo cubo e veniva fuori dal momento che i cubi non erano perfetti 15x15 ricordo che erano scarti di lavorazione per cui avevano delle differenze magari una era 15,5 un altro 15,2 cose di questo genere quindi non erano assolutamente perfetti ma in ogni modo quando lui misurava su questa bilancia il suo cubo che faceva vedere con uno sforzo enorme perché 65 kg a tenerli in mano non è uno scherzo infatti diventava tutto rosso nel video eccetera metteva il cubo sulla sulla bilancia e il bilanciere misurava circa 65 kg 65 qualcosa oppure 64,9 cosa ne so cose di quelle comunque intorno ai 65 kg ora l'unico dubbio che a me è venuto è che facendo una piccola equazione calcolando il peso specifico dell'oro se uno in effetti si mette io nel nel mio commento a quel filmato l'ho scritto affinché chiunque possa rendersene conto in effetti se uno avesse un cubo di 15 per 15 di oro va bene calcolando il peso specifico dell'oro che come si sa è più pesante dei metalli o uno dei più pesanti dei metalli c'è anche il tungusteno che se la batte un po' lì misurando viene fuori che un cubo di 15 per 15 in effetti pesa intorno ai 65 kg questo è un caso perché io non è che possa definirlo altrimenti comunque se uno scientificamente fa una piccola equazione calcolando le dimensioni il volume e il peso specifico viene fuori che 15 per 15 corrisponde a 65 kg ora le domande che si pongono sono veramente molteplici perché prima di tutto azzardati a mettere in circolazione dell'oro che non è come dire controllato e vidimato faccio un piccolo esempio tanto perché vi rendiate conto di che cosa stiamo parlando secondo la legge italiana ma non è solo anche altri paesi hanno la stessa cosa comunque ma in ogni modo parliamo della legge italiana secondo la legge italiana se voi prendete un oggetto d'oro e quindi stiamo parlando di qualcosa in commercio se voi andate ad acquistare qualunque cosa d'oro in un gioielliere e poi andate a controllare vedrete che ogni singolo oggetto di materia d'oro realizzato in oro ha almeno due marchi quello del produttore e quello della caratura in svizzera addirittura ne ha tre perché poi c'è anche il marchio della svizzera ebbene se un oggetto non ha questi marchi è assolutamente illegale illegale perché non si sa da dove viene non si sa chi l'ha fatto non si sa per quali finalità viene fatto circolare ebbene voi vi rendete ah non solo se prendete un oggetto e lo portate da un gioielliere per farlo periziare che cosa ne so un vecchio oggetto d'oro e voi non sapete se è d'oro o meno lo portate da un gioielliere perché così vi fate dire se si tratta o meno di un oggetto prezioso ebbene secondo la legge italiana se il gioielliere accerta che l'oggetto è d'oro ma non ha i requisiti di legge cioè i due marchi il gioielliere o chiunque per lui il perito chiamatelo come vi pare è tenuto è obbligato a sequestrare l'oggetto e a chiamare immediatamente l'autorità giudiziaria quindi vi rendete conto vi rendete conto che una cosa di questo genere non permette a qualcuno di mettere in giro diciamo così oggetti che non abbiano quelle caratteristiche prioritarie e legittime e legali che gli permettono di essere messo in commercio quindi tutto quest'oro di cui di cui avrebbe disposto perché poi non è sufficiente un video a raccontare che qualcuno ha otto tonnellate d'oro nel garage ci vuole ben altro ci vogliono dei controlli ci vogliono degli studi ci vogliono delle perizie insomma parlando in termini concreti i controlli devono essere fatti non possono essere aleatori però però a prescindere da tutto quest'oro secondo secondo il racconto che faceva lui e ripeto secondo questa piccola equazione di controllo quest'oro ci sarebbe stato poi lui ha detto che avrebbe dato l'oro a degli americani e quindi questi americani poi se ne sarebbero appropriati e non gli avrebbero corrisposto niente mentre lui era d'accordo che gli avrebbero dato il 50% del valore del loro stesso insomma c'è tutta una serie di cose che non finisce più ecco tutte queste cose messe assieme poi non solo il ruolo della Svizzera insomma gli aspetti di questa storia stiamo parlando della storia di cui mi sono occupato io quindi non tanto del passato ma quanto del presente di questi anni dal 2009 al 2022 è veramente ricca di ogni genere di particolari di protagonismi vedete io alla fine mi sono deciso a scrivere perché in un primo tempo non volevo perché dicevo ma di che cosa stiamo parlando perché non c'era un elemento fondamentale per per poter asserire che si trattava di verità non c'è neanche adesso io non parlo mai di verità conclamata io racconto tutto quello che è successo e lascio al lettore il giudizio dicevo io mi sono deciso a scrivere questo libro perché ho visto che in giro stavano spuntando troppi interventi di gente che non sapeva assolutamente niente di questa storia niente persone che si improvvisavano magari leggevano qualche mio articolo oppure cosa ne so la biografia di Ravelli e poi cominciavano a sparare sentenze a raccontare di qua a raccontare di là e a provocare un mare di confusione allora io alla fine ho detto no un momento che poi l'idea mi è venuta subito dopo la scomparsa di Rolando parlando con un suo amico ho avuto una lunga conversazione telefonica con un suo carissimo amico e alla fine ho detto no a questo punto metto insieme tutte le indagini che ho fatto tutte le mie ricerche e racconto in un libro cos'è successo veramente ecco questa è la storia del mio libro ecco Rino molti si chiederanno la famosa macchina che si avrà fatto o quantomeno istruzioni perché si è parlato negli anni anche se qualcuno poi era riuscito ad avere le informazioni magari per realizzarne un'analoga ecco tu che che idea hai su io sapevo della presenza di alcune macchine e anche un amico di Pelizza ne aveva due nascoste da qualche parte in Lombardia e queste macchine poi sono sparite tutto quello che posso dire è che dopo l'ultimo tra virgolette rapimento di Rolando Pelizza perché lui ogni tanto restava assente per dei mesi nessuno sapeva dove andava poi lui quando tornava diceva che era stato a lavorare per gli americani Dio solo sa chi dove e quando tutto quello che si sa è il suo racconto comunque nell'ultima l'ultima volta che lui avrebbe lavorato per questa gente è tornato cambiato ha detto che gli hanno impedito di di costruire questa macchina di utilizzarla proprio non se ne non se ne doveva più parlare e lui sembrava rassegnato la presenza delle macchine di cui io sapevo ma che non avevo mai visto guardate bene perché io ho visto soltanto una volta una copia della macchina fatta da qualcun altro e queste macchine sarebbero sparite tanto non lo vengono a dire a nessuno qualcuno le ha prese le avrà messe in qualche magazzino in attesa dei tempi migliori tanto comunque sia guardate queste macchine da sole sono dei bei soprammobili perché l'unico che era in grado di attivare e poi di utilizzare questa macchina sempre secondo il suo racconto sarebbe stato Rolando Pelizza per cui anche se le macchine ci fossero chi è in grado di farle funzionare non si sa a meno che a meno che lui non abbia lasciato il testimone a qualcuno però ripeto non solo non me l'ha mai voluto dire ma io sono convinto di non conoscere moltissime delle persone che lui frequentava perché lui le diverse persone che lui conosceva erano anche di mia conoscenza cioè erano praticamente di un giro amichevole comune ecco ma c'erano tante altre persone che lui andava a visitare con cui stava con cui parlava di cui non sa niente nessuno non sa niente assolutamente nessuno così come nessuno nessuno sa cioè tutti ignorano che fine abbiano fatto i documenti che lui sosteneva di avere per esempio il famoso codice Majorana di cui si parla anche nelle lettere che lo stesso Majorana scriveva ebbene nelle lettere il presunto Majorana diceva vai a guardare a pagina 20 paragrafo 8 perché lui avrebbe avuto Rolando Pelizza avrebbe avuto un codice un codice un libro un manoscritto di circa 200 pagine interamente scritto a mano dove il presunto Majorana gli raccontava come funzionava la fisica di cui parlava la matematica di cui parlava e che cosa doveva fare per far funzionare la macchina in un certo modo ecco se volete sapere un'altra cosa circa anche lì però siamo assolutamente nel campo delle ipotesi io ho parlato con un sacco di docenti universitari perché ovviamente per entrare in un mondo come questo tu devi avere come dire una concretezza di informazioni per cui io andavo a parlare con questo e con quello proprio per cercare di capire cosa ci potesse essere di vero ebbene solo nel libro questo lo racconto soltanto un docente di fisica dell'università di Torino e una volta ha detto chiaramente che in via del tutto ipotetica ipotetica non andiamo nelle fantasie di rapida soluzione non è così in via del tutto ipotetica un'energia come quella che sarebbe stata in grado di generare quella macchina poteva nascere poteva venire fuori solo se quella macchina per un millesimo di secondo creasse all'interno del suo meccanismo il monopolo magnetico il monopolo magnetico qui andiamo nello scientifico vi basti sapere che una volta che ho parlato con un docente di fisica di Barcellona mi diceva che per intendere un monopolo magnetico la massa di questo monopolo dovrebbe essere grande come tutta la terra ok quindi stiamo parlando di qualcosa che secondo le nostre conoscenze è del tutto impossibile però in via ipotetica cioè se uno dovesse spiegare un fenomeno di questo genere dandone una spiegazione del tutto fantasiosa ma che potrebbe corrispondere alla realtà è quella che se questa macchina avesse generato il monopolo magnetico allora si spiegherebbe tutto tutte le sue potenzialità ma ripeto siamo nel campo delle ipotesi ecco per chiudere Rino mi chiedevo questo perché di solito uno potrebbe immaginare se questa macchina era in grado di fare appunto quello che a noi rende è difficile immaginarlo quindi c'è dietro un grande essere scomodo ovviamente per i poteri vari che hanno immaginato inevitabilmente entrambe le figure però queste figure dovevano rimanere vive perché uno potrebbe dire perché non li hanno eliminati e si prendevano diciamo la scoperta invece evidentemente c'era la necessità che loro rimanessero in vita e magari anche a lungo ma di di chi parli esattamente perché sia di Maiorana che di Pelizza di solito è capitato anche nella storia recente ricordiamo faccio un confronto ma ovviamente non è che è un confronto così che ci sta molto però per dire c'è stata una scomparsa di un ingegnere elettronico a Roma che non si è mai saputo nulla e probabilmente sarà stato forse eliminato riferisco a Davide Cervia e non se ne è saputo più nulla proprio zero assoluto probabilmente perché aveva delle conoscenze delle doti delle capacità fuori dal comune in questo caso invece avremmo delle tracce addirittura in vita a distanza di molto tempo lo stesso Pelizza si scompare dei mesi però comunque poi ritorna ecco mi chiedevo del perché di questo perché comunque servivano vivi probabilmente per continuare un certo lavoro qui entriamo bisogna dare delle spiegazioni che però non sono non corrispondono alla realtà delle cose si può parlare e lì torniamo sullo stesso principio cioè in via del tutto ipotetica ora se fosse vero che il presunto Ettore Majorana fosse riuscito a ringiovanirsi e quindi fosse ancora in vita in effetti con lui in vita non ci sarebbe stato più alcun bisogno dell'aiuto di Rolando Pelizza in quanto l'autore stesso avrebbe avrebbe supplito anche l'eventuale aiuto che avrebbe potuto prestare il suo ormai anziano amico per cui il fatto che Rolando se ne sia andato se questa gente esiste e se e se questa chiamiamolo complotto per comodità di definizione se questo complotto fosse fosse attivo allora si spiegherebbe perché Pelizza è stato lasciato andare perché Pelizza non è stato aiutato nell'ultima fase della sua vita sto parlando aiutato materialmente cioè avrebbe meritato visto che ha dedicato l'intera vita a questa storia avrebbe meritato molto ma molto di più invece lui non ha avuto niente e le persone per cui lui lavorava anzi lo hanno minacciato e quindi e quindi si spiegherebbe il fatto che la sua scomparsa dopo tutto nella presenza di un ipotetico quadro di questo genere non è più rilevante per loro intendo dire per questi presunti signori ma io vorrei portare un ultimo esempio tanto per far capire cosa ci sta dietro o cosa ci starebbe dietro a tutta questa storia pare che nell'ultima fase della sua vita negli ultimi mesi della sua vita provando Pelizza avesse deciso di ricostruire la sua macchina e quindi disobbedire ai suoi controllori e costruirsi una o due macchine per i fatti suoi per poterle utilizzare in qualche modo lui aveva bisogno di aiuto ora siccome sono molti i lettori che in questi anni diciamo così sollevato problemi e sollevato problemi nel senso che se c'era qualcuno che voleva conoscerlo e mi sembrava una persona diciamo così normale perché purtroppo ci sono anche gli idioti gli idioti non mancano mai sotto qualunque cielo e le persone che mi sembravano così più credibili io le segnalavo a lui e poi lui sceglieva se mettersi in contatto o meno una di queste persone è stato un ragazzo un gran bravo ragazzo devo dire si è comportato molto bene nonostante l'evento traumatico che ha vissuto Oscar Valente si chiama e questo ragazzo ha fornito a Rolando Pelizza i mezzi per costruire prima sembrava una macchina poi invece le macchine erano due anche perché se uno intraprende un'avventura di questo genere tanto vale insomma si spenderà di più però lo sforzo per fare una macchina tanto vale farne due e tra l'altro deve essersi fatta una bella esperienza con una guida come Rolando Pelizza in ogni modo hanno costruito queste due macchine soprattutto la prima che era quella dove avevano messo mano e però hanno compiuto tutta una serie di errori cioè hanno sottovalutato il pericolo che sta dietro un'operazione di questo genere infatti soprattutto la prima macchina era costruita praticamente in uno scantinato cioè chiuso con un lucchetto una porta chiusa con un lucchetto figuriamoci se un'opera come quella dell'impegno e delle potenzialità ammesso che siano vere appunto di quel genere possano insomma essere costruite senza un briciolo di sicurezza come hanno fatto lui questo ragazzo e Pelizza insomma per farla breve alla fine i signori sconosciuti e che non si vedono gli invisibili mettiamo così i controllori invisibili si sono fatti vivi si sono presi entrambe le macchine e se le sono portate via ma soprattutto hanno chiamato facendo passare un brutto quarto d'ora il ragazzo era terrorizzato terrorizzato perché questa gente non ha fatto niente allora niente li ha soltanto presi li ha portati in un posto gli ha fatto vedere che da mesi controllavano i loro discorsi perché li riprendevano anche mentre camminavano per strada e ascoltavano le loro conversazioni quindi sapevano che stavano facendo le macchine e poi alla fine quando le hanno finite sono intervenuti e se le sono portate via minacciandoli minacciandoli dicendogli azzardatevi a costruirne altre e poi vi sistemiamo noi ripeto il ragazzo è rimasto sconvolto ma si è comportato molto bene devo dire che ha affrontato questa esperienza negativa con molto coraggio con molta con molta freddezza anche pur insomma essendo agitato come non poteva non esserlo ma per dire se c'è qualcuno che costruisce quella benedetta macchina e la costruisce rendendo in qualche modo noto il costruire stesso i rischi almeno per quello che se ne sa ma non ho motivo di dubitarne sono veramente elevati Vino io ti ringrazio molto per questo affascinante e dettagliato racconto ricordo il libro il caso Majorana Pelizza uscito per One in descrizione trovate anche il link appunto per arrivare direttamente al libro Vino tanti auguri grazie davvero grazie a voi arrivederci